È chiaro che siamo ancora in una situazione emergenziale. L'unico modo per avere un allentamento di questa pressione sul sistema sanitario locale è quello di creare una struttura in più esterna agli ospedali che aggiunga posti letto, come è stato fatto a Prato, come è stato fatto a Lucca e come io ho chiesto ormai da più di un mese e mezzo alla regione, all'azienda, disponibilissimo a trovare locazioni da poter destinare a questo, però ci vuole la volontà forte e determinata dell'azienda, ma soprattutto della regione, direi più che dell'azienda, a creare una riserva rotante. E così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, torna a parlare di ospedali da campo. Il primo cittadino infatti ha emesso un'ordinanza con la quale viene individuata e lasciata libera fino almeno al 31 gennaio prossimo l'area di sosta camper e spettacoli viaggianti di via Duccio da Boninsegna, accanto al multipiano Mecenate. L'area resterà infatti a disposizione per una struttura medica temporanea destinata alla battaglia anti-Covid. Un ospedale da campo tra virgolette non sono tende, è un ospedale diverso da quello ordinario dove poter indirizzare i pazienti Covid per non gravare eccessivamente sulle riduzioni di assistenza che necessariamente si devono operare facendo convivere nella stessa struttura ospedaliera San Donato sia i malati che c'erano prima, sia quelli nuovi che ci regala il Covid giorno per giorno. Si tratta di un tema che già nelle scorse settimane aveva acceso un duro scontro tra comune e azienda sanitaria. Prendo atto di questa disponibilità del sindaco Ghinelli, l'ospedale in questo momento ha una capienza, come ho già detto altre volte, abbastanza sufficiente per accogliere una eventuale terza ondata, di cui ancora però non abbiamo segni evidenti. Non abbiamo segni evidenti, siamo molto più orientati a occuparci di vaccini perché crediamo che la vaccinazione rappresenta davvero la strada per uscire da quest'incubo che ci perseguita ormai da un anno, un anno e qualche mese.